No, notizia no, ve lo dico sempre, questo è il mio lavoro, il lavoro di fare gol e aiutare la squadra a vincere. Doveva essere una prova di maturità per l'Inter, lo è stato, perché partire così forte, colpire anche a freddo l'Empoli, era la cosa più importante per mettere la partita sui binari che volevate. Sì, questa partita era molto importante, perché non abbiamo avuto neanche tempo di recuperare la domenica, e già ci siamo trovati in campo oggi, è una squadra che sapevamo che era tozza e questo di partire così dal primo tempo, con due passioni e due gol, penso che a loro un po' la morale è venuta giù e questo ci ha aiutato anche noi a prendere il risultato oggi. Quanto ti piace giocare con questo sistema di gioco, perché oltre a darti la possibilità di essere decisivo, ti dà anche una forza ancora maggiore per aiutare di più la squadra, cioè l'impressione da fuori è che ti senti perfettamente a tuo agio con questo sistema di gioco qui. Sì, io l'ho detto settimana scorsa questo, a me piace tantissimo giocare così, come unica punta perché ho dietro dei giocatori con molta qualità, abbiamo tutti i giocatori, non quelli che hanno giocato oggi, se no tutti quelli che giocano hanno moltissima qualità, e per me questo è un aiuto impressionante, perché è molto importante, perché io mi trovo sempre in porta con i giocatori così. Iniziate a mandare dei messaggi a quelli che sono davanti, cioè quest'anno c'è l'Inter non solo per la Champions? No, penso che siamo all'inizio del campionato e dobbiamo continuare così, con questo atteggiamento, lavorando come stiamo facendo sempre, e testa adesso a domenica che c'è un'altra partita è bassa, oggi siamo venuti qua, siamo contenti, però già da oggi iniziamo a pensare subito alla prossima.